...computamenti... 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 Oh! Ve la regala! Viene con un pallamento morbido! Mijener 1-2-1 Al terzo! Con il gimpom... Ruba il pallone... E segna un gol delicatissimo! Gimpom ha del vantaggio! Al terzo! Podiamo puntare... Stasera a un risultato importante! Dai, poco tempo in questi giorni, poco tempo. Tipo bellicatissimo. Meglio a Bajen. E' sperato a un milione. Un calciatore già dentro addirittura. Un CL. Si trovava. Bajen, che non è giocata. Oh, bellissima. Fitcher's best ancora. 5-1. Da una posizione incredibile. Dio pazzetto. Dio pazzetto. Guarda che precisione. 5-1. Non ho fatto un po' più. Non ho fatto un po' più. E' One Manuel, buca la porta. One Manuel! One Manuel! Tota! One Manuel, scusa se l'ho messo in panchina. Scusami se l'ho messo in panchina, One Manuel. Mi scusi il Musagente. Sbacca l'incrocio il Musagente. Giocatore fonduoso. Giocatore meraviglioso. Distisce ancora le critiche. Incredibile rivolte verso di lui. Incredibile. Il Musagente Prime. Giocatore fonduoso in panchina nella sfida dei prezzi. Incredibile. I miss you so much. I miss you so much. Cristiano Ronaldo. Revis. Ricosta! E' One Manuel, ricosta! 2-2! Dello scambio a punto in Serie A! Absolutely passes! One Manuel, ricosta! E' One Manuel, ricosta! Che gol! Di scacca la porta! Il Musagente! Ronaldo con Eden. Eden passa. Eden, Eden. Forza lo troppo. Eden! Di Salvaro. Arriva l'Est. Goal! Che gol! Lo ha andato a mettere dalla riga di fondo. Oh mio mio, best! What are you doing? Arriva l'Hatequid. Il Musagente. Ma, 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 ma! Ma, 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 ma. Ma, ma, che gol! Isqué amantia con la ruota. Questa un po' di Ciro. Manchina. lì sta la repeticione mira Manolo che viense ma che gol ora viva